«Ei freddo, Tommy?» gli chiese Recon a poca distanza da lui, la lancia stretta in pugno e le gambe doloranti a causa delle ore che sembravano non passare più dall'inizio di quella sera. Tremava come una foglia per il vento che spingeva i vessilli sui bastioni da una parte all'altra. Sembrava che volessero scappare, ma erano lì per un motivo ben più valido, incutere paura. O era questo che si augurava il principe Berius, che era stato inviato a città del Corvo per presidiare il confine meridionale del Reame con 400 uomini. Re Fredon, che governava su Eraden, aveva preso quella decisione quando le notizie della morte del re derandiano erano giunte alle orecchie di ogni sovrano dei Reami liberi. Molti giovani erano stati costretti a partire per quella città abbandonata in mezzo a nulla, dove un tempo sorgeva il grande impero del nord, ma ora non vi erano altro che rovine e pezzi di un passato di cui a nessuno importava, neanche a Recon, che era uno scultore e un poeta. Mentre si stringeva il mantello sulle spalle, Tommy, che aveva conosciuto alcuni mesi prima, si avvicinò alla sua posizione, adagiando lo scudo contro il muro di cinta. Recon lo considerava un bravo spadaccino, di certo migliore di lui. Indossava la tipica cotta di maglia e un elmetto di pelle che gli copriva le orecchie. Ed era così per tutti quei ragazzi sulle mura, o coloro che ora dormivano e avrebbero preso il loro posto quella stessa mattina. Ma alcuni non lo avrebbero fatto. Da quando erano partiti, in molti si erano ammalati ed erano morti. Il principe Berius aveva predisposto che venissero seppelliti all'interno delle mura, così da non far uscire i suoi uomini fuori dalla città. Recon e Tommy avevano raccolto i corpi dei loro compagni, e li avevano spogliati e poi ammassati in una fossa che avevano scavato insieme quando avevano concluso il loro turno. Già dai primi giorni si erano dati da fare. Tommy teneva il conto di quanti ne fossero passati, e si domandava quando sarebbe tornato a casa per tornare ai suoi amati campi. «Preferirei un bel corno di birra, questo gelo!» rispose il contadino battendo i denti. «Ho qualcosa da mettere sotto i denti!» Era stato costretto a partire da suo padre, che lo aveva più volte criticato per la pessima scelta di vita che si era scelto. Recon, poco più fortunato, era lì per l'ispirazione e le poesie, perché era convinto che ci fossero esperienze che andavano vissute, ma fino a quel momento l'unica ballata che avrebbe potuto scrivere era per il vento che gelava la pelle a chiunque. O per il principe, che era al caldo con alcuni nobili fedeli a re Fredon, a mangiare ostriche, bere vino o birra e scopare con qualche giovane contadina che era stata condotta da loro per intrattenerli. Di sicuro loro non sarebbero morti dal freddo. Mentre si adagiava la lancia contro il petto, si sfregò le mani. Teneva lo sguardo puntato sulla foresta silente che separava Eraden dal principato di Melfor. Scrutava arbusti, alti alberi che sfioravano il cielo notturno e sfidavano le stelle. E' un sentiero che si addentrava all'interno di quella coltre oscura. I raggi della luna riflettevano sulle armature degli ufficiali, che dormivano anche quando dovevano stare svegli. «Un'ottima serata in questo lercio strato di terra, rocce, rovine e merda!» affermò il poeta con una risata, picchiettando la lancia al suolo. «Se pensavo che fosse così, non mi sarei mosso!» Tommy lo guardava sempre in maniera interrogativa. Il volto dell'amico era pallido e aveva gli occhi neri e i capelli biondi legati da un laccio marrone quando non erano coperti dall'elmetto in pelle che veniva conferito alle milizie randiane. «Mi domando perché tu l'abbia fatto!» sbuffò il contadino, scosse il capo e si mise sulle spalle lo scudo e cercò di non imprecare per il peso che aveva. Era stato forgiato dallo stesso fabbro del principe, come tutte le armi all'interno di quella spettrale città. «I soldati sono un'ottima materia di ispirazione per un poeta. Sai, alcuni tra i più grandi poeti della storia di Avenstein scrissero di antichi eroi che combattevano da una parte all'altra del mondo!» «Ma non eri uno scultore! Cazzo, cambi idea ogni giorno!» esclamò Tommy con una risata. «Se avesse voluto, non si sarebbe solo risparmiato a dirgli che il suo atteggiamento aveva iniziato a stancarlo, ma doveva tenere duro ancora per due settimane. preferisci che dica che sono un promettente artista?» domandò Recon in tono borioso, la mano che strisciava lungo il muro di cinta per testare le sensazioni che gli dava quel senso di gelo. Città del Corvo era stata fortificata da alcuni costruttori nei villaggi vicini. Si erano offerti per denaro e il principe li aveva pagati profumatamente, ma si erano in seguito rifiutati di venire, perché alcuni erano misteriosamente scomparsi nei boschi. Quindi avevano restituito il denaro e si erano scusati. Ma non era bastato. I costruttori erano stati impalati vivi, per ordine del principe Berius, e nessuno dei suoi signori aveva protestato. Mentre il vento si faceva più freddo, i soldati si avvicinavano alle braccia accese per scaldarsi. Anche Tommy e Recon lo fecero. Potevano stare lì per qualche istante e poi tornare alla loro posizione perché gli ufficiali erano imprevedibili e alcuni erano stati scoperti persino a mangiare di nascosto, o a saltare il turno per incontrarsi con una ragazza al di fuori delle mura. I vessilli, su cui era impresso il calice nero in campo verde dei Vresphron, erano spinti dal vento, da un vento freddo che punzecchiava la pelle di chi non era abituato a sopportarlo. Recon si fregò le mani e Tommy le mise dentro la giubba araldica imbuttita con protezione in pelle di lupo e ferro. Battevano i denti e altri soldati imprecavano contro il principe perché non dava loro del cibo caldo e non gli faceva riposare abbastanza. Nessuno sembra felice. Se il re fosse qui saprebbe come tirare l'orecchio a quell'idiota, disse Tommy in tono rauco, tremando sebbene fosse coperto in ogni modo. Il sole rosso non arriverà mai nel nord. I quattro reami sanno come difendersi. Ma Derand no, pensò Recon con un sospiro. Il vento fischiava accompagnato dagli ululati dei lupi e da alcuni tamburi che giungevano dal cortile o dalle case occupate dai signori o dagli uomini scelti del principe. Eppure il re Dercon è morto, ribatte il poeta in tono deciso. Sole rosso o meno, c'è qualcuno che si diverte a uccidere il re. Sembra quasi una storia che mi veniva raccontata da bambino. Tommy, che credeva ben poco alle leggende, lo fissò di sottecchi. Era un suo amico e valido compagno, ma troppo legato ai libri che ha la realtà delle cose e la vita di tutti i giorni. Cos'è? Sei sorpreso del fatto che anche i rei vengono uccisi come qualunque altro idiota? Recon comprendeva il fatto che l'amico non guardasse oltre il suo naso. Ma questa non era una giustificazione a non collegare il passato con quello che accadeva da due anni a quella parte. Sono sorpreso del fatto che vengano uccisi, ma non è qualcosa che mi interessa come tu puoi credere, commentò. Nessuno ha mai ucciso un re derandiano in quel modo. È strano. Stanco di quelle parole, Tommy spinse l'amico verso la loro posizione. Non rispose né gli scambiò uno sguardo, perché intendeva concludere il turno prima del mattino e dormire fino al pomeriggio. Quindi entrambi si decisero a scrutare la foresta. Era silente, spettrale e colma di una storia sanguinosa. Gli erano morti molti uomini durante la guerra contro Derand, e i bardi narravano di chi era sopravvissuto, ma non aveva mai trovato la strada di casa. Sai, io... iniziò a dire Tommy, prima che una campana su una torre di guardia iniziasse a suonare. Svegliò gli ufficiali e chi si era addormentato davanti alle porte della città, mentre altre campane intonavano il loro insopportabile canto per avvertire chi non si era reso conto del pericolo. Ma neanche chi era sulle mura se n'era accorto, e tutti guardavano verso la foresta, come se ci fosse qualcosa che si muovesse tra le ombre degli alberi e degli arbusti. Che cosa succede? domandò Recon all'amico, stringendo con forza la lancia per ogni evenienza. Non lo so, rispose Tommy in tono rauco. Dobbiamo... Ma il contadino non concluse la frase, perché una coda ossuta e appuntita lo trafisse nel petto, e lo alzò di diversi centimetri dal suolo. Recon, che indietraggiò subito, puntò la lancia contro la bestia. Altri miliziani giunsero sul posto, puntando ogni arma contro quella creatura che stava uccidendo il loro compagno. Urlavano, cercavano di farsi forza per colpirlo, ma nessuno si muoveva. Neanche Recon, che non aveva mai imbracciato un'arma nella sua vita. Il sangue sgorgava e le campane si facevano sempre più intense. Iniziò a suonare anche la loro.